Sì, invece chi era il mostro di Firenze? Non è quel signore che tu vedi alle tue spalle? No, assolutamente no. Che non c'era nessun elemento, neanche mezzo indizio, aggiungendo che l'indagine mi sembrava fatto dalla Pantera Rosa. Questo fu detto pubblicamente. Secondo me è uno dei finali più complessi, più pericolosi. Più straordinariamente conforti, psicologicamente un conforto. Più straordinariamente perfetti, più pericolosi. Aggiungendo che l'indagine mi sembrava fatto dalla Pantera Rosa. Questo fu detto.